Ciao creatura, io sono Mecca Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kozai ASMA. Ciao, questa sera siamo in compagnia di un ospite molto speciale, ovvero Makeup Lucrezia. Non avevamo calcolato l'inquadratura della persona in piedi, ho chiesto a Lucrezia se poteva realizzare per noi questa sera un makeup natalissimo però gotico, c'è chi porta una cosa del genere su Youtube, solo noi, e beh, trovate i link di Lucrezia, di Instagram, di Facebook nell'info box, mi raccomando, seguitela, seguitela, seguitela. Ok, quindi come procediamo? Procediamo con la preparazione del makeup basico, basico, basico. Si è studiata Lucrezia come si fanno gli ASMR, l'abbiamo detto ma è una mia amica, da quando ci conosciamo? Da 13 anni, da quando abbiamo 13 anni, così? Pensavo 16 anni, tu avevi 13 anni perché io sono più vecchia, per quello. Eravamo adolescente, teenagers, eravamo un po' a Rovigo. Eh si, a scuola. Va bene, allora io direi di procedere con il makeup finché c'è silenzio. Esatto. Perché qua è un luogo un po' di rumore, è un luogo un po' silenzioso. Si. Andiamo. Andiamo. Mi affido a te. Iniziamo con l'acqua micellare. Anche le unghie lunghe. Oh certo. Che mi mancano. Per la confida. E' super professional qua, non si scherza. Iniziamo a pulire il viso. Eh, c'era le cuffie, ma non dovrebbero fare foschie. Wow. Sto già attormentando. Poi andiamo ad utilizzare l'acido ialluronico. Questo io non l'ho mai messo, cos'era? Questo è un prodotto, acido ialluronico, siero concentrato, idrata profondo, rossoda la pelle, efficace a spettro completo. Fa una puncita. Il bello è che solo io sto sentendo i suoni che fa e sono perfetti. Lei non sente. Però se l'hai studiata bene l'SM, non è. L'applico sulla pelle. Prima del make-up. È una base make-up, ma può essere anche una base giorno. Per idrattare bene la pelle, massaggiarla anche molto bene, da applicare sia la mattina che alla sera. Questa mi manca nella mia skin care. È vero. Ora vado ad applicare il contorno. Per un occhio è una crema antifatica, idrata e tonifica con acido ialluronico, adatta a tutti i tipi di pelle. Perfetto per me. Apre pure gli occhi. Sì, ok. Ok. Tutto gli occhi. ok ok perfetto ora andremo ad applicare il ritual primer base trucco perfezionante lissante la vado ad applicare su tutto il viso per fissare bene la base trucco con i corvi sottofondo che bello i miei corvetti mi vengono a trovare ogni tanto mi sembra giusto così certo anche quando vado a camminare lungo la ciclabile ogni tanto li vedo comunque è vero che se ci conosciamo da 13 anni perché ne ho 26 è vero cavolo e se la matematica non è un'opinione madonna uscivamo con la compagna di rubico qui di sera adesso adesso vado ad applicare il primer a occhi ritual A primer è long lasting eyeshadow base con acido ialluronico tutto acido ialluronico sono si 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 se Giustamente Lucrezia si è studiata un po' la forma del mio viso, dei miei occhi per creare questo make up. Bene. Parto col make up delle sopracciglia. Utilizzo il pettinino. Vado a pettinare le sopracciglia adesso. E vado a colorarle un pochino per darle un po' di forma. Vado a prendere un po' i fuoci. Cos'è quello? Lo sfumino? Sì, è un pettinino piccolo piccolo piccolo. Delle dimensioni di uno, neanche un riso. Ma a te quando hai nata la passione per il make up? Un'ossessione, io e la mia ossessione. Andremo su realtime, io e tecchi. Ok? Beh, io praticamente ci sono già su realtime foto programmatiche e fare baciare smr. Davvero? No. Non l'hai visto? No. L'ultimo tero link? Io ho visto Nemo. Ah no? L'ho ricreato io sul mio canale. Dai. Una volta finito le sopracciglia vado a pettinare con l'eyebrow plumping gel di Pupa e un mascara per le sopracciglia colorato. Bello, non ho mai messo questo. Basta anche solo una passata leggera. E' nero? No. E' della colorazione 02. E' tipo un marroncino. Ok. Per curiosità. Certo. Pazzesca. Grazie al primer che abbiamo applicato sugli occhi, vado ad utilizzare la matita nera per ricreare il make up ed iniziarlo. Questa è la matita nera di Deborah Milano 24 ore waterproof. Matita occhi tenuta estrema. Come noi. Ok. Guarda verso di me. Abbassa un pochino. Guarda davanti a te. Vado a tracciarti intanto il segmento per l'altezza per capire l'attaccatura della palpebra. Apri un attimo. Perfetto. Perfetto. Sì. Adesso chiudi. Ottimo. Apri un attimo. Ok. Chiudi pure. Perfetto. Vado a sporcare leggermente la palpebra. Può essere usata anche come ombretto questa mattita. Vado con l'altro occhio. E' diverso l'altro occhio. Importa. Lo faremo uguale. Perché lo voglio io. Chi mi tutto vede o guarda. Perfetto. Adesso passa pure la palpebra. Perfetto. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Perché io ho provato a fare i make up che hanno consigliato i followers. Sì. E i miei occhi sono troppo diversi da... Certo. La forma che hanno tutti gli altri nei video. Quindi non sono uscita... O meglio non stanno bene come stanno gli altri. Esatto. Ho capito. Beh ognuno di noi è diverso. Quindi è normale. Giustamente. Adesso vado a sfumare la mattita da creare tipo uno smokey eyes. Ok. Effetto sfumato. Bello mi piace. Giustamente deve essere stile gotico. Quindi lo smokey eyes ci sta. Faccio movimenti circolari. Perfetto. Perfetto. Vado ad applicare adesso questo ombretto nero che è storicissimo e fantastico. L'ombretto setting. Primer più colore. L'ombretto setting. Setting e shadows. Colore 09. Lava. Ah. Ma è storicissimo per quel motivo. Della collistar tra l'altro. Quindi dopo di caso. Perché non lo fanno più è storico quel sesso. È storicissimo perché l'ho utilizzato tante volte io. Ok. È un classico ombretto di quelli neri che sono proprio neri perché alcuni che ho provato io sembravano neri e poi erano grigi. Tra l'altro ha una doppia funzione che resiste molto di più rispetto agli altri ombretti perché ha sia il primer che l'ombretto insieme. Quindi sono più tosti. E se vuoi posso farti da bordo oggetti. Grazie amore. L'ho visto in difficoltà. Grazie. Adesso vado ad applicare l'ombretto nero sulla parte dove ho sporcato la palpebra con la matita nera. Con i suoi occhi chiusi. Si. Lo vado a picchettare. Molto bene. Per far tenere di più il prodotto. Vado anche dall'altra parte. Perfetto. Mi sto tormentando. Fai carta bianca. Fai quello che vuoi. Andremo a fare un trucco gotico natalizio. Un occhio verde e un occhio rosso con l'arte gotica elegante del Natale e quella cattiva. Vado ad applicare adesso l'ombretto verde di Essence Fall Back to Nature e Shadows Palette. Questa è tutta satinata. Tutta satinata. E lo vado. Che bella. ha tutti i colori sia matt che quelli brillantinati, gli shimmer. E c'è la tipologia che va sul tono più caldo a quello più freddo. il verde, il marroncino, il marroncino ancora quello più scuro tipo castagna. C'è addirittura rosa. Un rosa tipo pastello, confetto. E poi si va su quello un po' più rosso tipo ciliegia. Molto bello. Vado ad applicare il Kate Mossy. Che bella questa paletta, la prima volta che la vedo. È stupenda. Vado a prelevare poco, soprattutto. Ti tengo una paletta. Ok. Adesso guarda verso di me e chiudi. Faccio un po' e un po'. Faccio sempre i movimenti circolari verso lì. Inizio prima dagli occhi. Perché nel momento in cui li vado a preparare, tolgo il prodotto in eccesso che c'è qua sotto. E quindi vado a pulire bene per fare tutta quanta la base completa. Senza sporcare appunto il fondotinta con l'ombretto. Ah, io invece faccio sempre prima la base e poi faccio l'ombretto. tutto sbagliato. Tutto orato. Tutto orato. Tutto orato. Vado ad allungare la codina anche. Apri pure. Perfetto. Vai a vedere. Perfetto. Che bello. Prendo la palette di Wet n Wild e 738 Comfort Zone. che è una palette con tutti i colori. Sono tutti comunque molto brillantinati, molto delicati. belli. Sono stupendi. Io vado a prendere il verde più chiaro. Se si vede. Puoi anche avvicinarti se vuoi. Bello, si vede. Per dare più tridimensionalità all'occhio. Se no è troppo forte. Può dare più tridimensionalità all'occhio mettendolo anche nell'angolo interno. sempre con questo verde chiaro. Apri pure. Bello. Mi piace vedere la sua voce soddisfatta. Sì. Adesso iniziamo l'altro occhio. Cambio pennellino e metto il rosso. Vado ad applicare l'ombretto rosso di Velvet e Shadow. Vado di Divash. Bello questo rosso. E' più rosso. Che va tendente al rosso sul fucsia. Ma una volta applicato di vista sembra un po' più chiaro, un po' più roseo. Ma una volta applicato è proprio rosso. Si può vedere anche. Per il pennellino. Si. Fatti sul pennellino sembra diverso. Esatto. Manu. Assistente. Adesso. vado a scoparlo con un altro pennellino ovviamente, se no si appesantisce troppo. sempre riprendendo però la palette, prima palette precedente, sempre con il colore chiaro. riprendo poco prodotto rosso, pochissimo una punta e lo vado a mettere sempre all'interno qui. per accompagnare il verde chiaro dall'altra parte dell'occhio. Apri. Perfetto. Adesso ti do un'occhiata. Perfetto. Il rosso mi sta un sacco bene. Se ti piace. Perché fa contrasto con il colore degli occhi che sono verdi. Esatto. Adesso vado a pulire l'eccesso che si è formato qua sotto. e poi vado a fare la base sotto. Per pulire. Che ti piace tanto creatura con questi spruzzi. Questi suoni pazzeschi. Per pure verso in alto Marta. Non se ne è depositato tanto per fortuna. Perché sei stato attento. Certo. Utilizziamo Astra Transformist Foundation più Concealer. E' un fondotinta più correttore che è super coprente Finis Semi Matte. Che è quello che utilizzi tu. Esatto. Lo applico intanto qua. Sulla mia mano. Per non entrare tanto in contatto con lo scopolino. Utilizzo il pennello da fondotinta. E' morbidissimo. Prima. Prendo il prodotto. E lo vado ad applicare sulle guanze intanto. Con la base che abbiamo messo. Primer. E' perfetto. Resiste un sacco. Non vado a metterne tanto la Marta. Su solo dei movimenti. Per distenderlo bene. Su tutto il suo viso. Come mai non ne metti tanto? Perchè sennò ti appesantisce tanto. Hai una pelle già molto idratata. E non vorrei che ti andasse molto bene. Per soffocare. Vado poi bene a spostarlo. Vado a fare adesso la fronte. Se tu ti vedi come un fantasma. All'inizio. Dopo ti faccio il contouring. E prendo la forma del viso. Ovviamente. Vado. Ad applicare. Il correttore della Essence. Camouflage. Plus. Matte Concealer. Della colorazione. Light Rose. Del numero 10. Adesso. Guarda in alto. Adesso. 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 Desso ti devo fare una novità. Questo è il cofanetto. Che ci hai dato l'accademia dei pennelli. Necli. Wow. Che chic. Scusate, devo toccare. Wow, super morbido. Scusate, è più forte di me dovevo sentirlo. Suona malissimo. Non so se ciò che ho detto. Questi sono tutti i pennelli. Adesso vado ad utilizzare quello proprio per la cebria fissante. Che è questo qui. Proprio nuovo, nuovo. Perché è ancora la plastica. Senti. Bellissimo. Bello. Adesso vado ad utilizzare la All About Matte Fixing Compact Powder della Essence. Guarda pure in su. È super soffice. Allora la vista. È pazzesca. Questa praticamente toglie l'effetto per le unta. Sì, è lucida. Perché è un naso. Io penso un po' tutti, credo. Adesso vado a fare la parte sotto degli occhi di Marta. Vado ad utilizzare uno sfumino, riprendendo sempre il colore nero, l'ombretto nero che avevo applicato in precedenza. Quello storico, eh. Sì, quello storico. Sto cercando di non chiudere l'occhio perché mi è l'istinto. Certo. E vado con il rosso. Ma non prendendo ancora materiale perché sennò diventa troppo pesante. Contenua. Contenua. Dopo, dopo parliamo di questa. Che pazzesca come palette. So già quel è il mio compito, no? E vado ad allungare l'occhio verso l'esterno. Con piccoli tocchi, proprio toc 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 toc. Faccio la stessa identica cosa dall'altra parte. E lì sotto, sulla parte verde, vado ad applicare questo qui. che sono dei pigmenti. Grinciosi. Grinciosi, verde. Attenzione. Quando si apre questo prodotto bisogna stare attenti perché può anche dispedersi. È dappertutto dentro. E potresti inalarlo. Ecco, è su tutto il tappo, anche all'interno. Quindi bisogna stare attenti ad aprirlo perché è molto delicato. Io ho dei pigmenti così per la resina e so cosa vuol dire perché ho già stato. Guarda. È dappertutto. Vedi? È una mamma mia. È solo ovunque. Sul tappo. Addirittura. Non ho neanche la fatica di prendere il prodotto dall'interno. Beh, è meglio così dura di più. Se no si disperde. Meglio così, io credo. Ok. Ok. Wow. Eh ma la parte rossa mi attira di più. È vero. Ti sta molto bene. Però siccome siamo a Natale. È giusto fare rosse e verde coincidenza. Sì. Siamo tutti più buoni. Ok. Ok. Prendo la paletta che avevo per la parte sotto dell'occhio. Di cui dovevi parlarci. Allora. È una paletta. La face palette. Sarebbero il blush e gli illuminanti. Della Astra. La Glow Garden. Di queste tre colorazioni. Quindi tu hai usato il blush praticamente? Sì. Perché se no con il rosso diventava tanto pesante. E adesso vado con questo qui, il primo, quello più chiaro, a fare l'angolo interno dell'occhio. Devo chiudere lì? No, no. Tieni pure aperto. Io ho la membrana dell'occhio lì. Andiamo ad utilizzare un eyeliner waterproof della Debbie. 100% eyeliner waterproof matte. Questo fa un bel suono così tipo. Non è venuto davanti a te. Perfetto. Vado a leggerissimamente sporcare, sia italiano questo, la taggatura delle ciglia. Sporcare perché non deve essere un eyeliner preciso. Abbiamo messo l'ombretto nero quindi va a completare tutto quanto. Vado a riprendere, applicandolo ancora un pochino, l'ombretto nero. Quello storico. Quello storico. Chiudi un attimo per bene. In questo caso non mettiamo l'ombretto nero perché è già intenso con il rosso. Quindi si vede tanto. Aspettiamo un attimino che si asciughi. Sempre di Astra The Universal Volume Mascara 24 ore Extra Black. Mascara e sono già poche ciglia. Per questo dopo applicheremo le ciglia finte. Hai mai provato le ciglia finte, quelle magnetiche? Si. E come ti sei trovata? Sono la mia vita. Si? Ti trovi bene? Oggi si. Queste quelle che ho adesso non sono magnetiche però non sono quelle normali. Adesso dove guardo? Adesso guarda pure davanti a te. In realtà tu ce le hai lunghe ma sono fine 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 e poche. Guardate che ciglia mi mette adesso. Sono tipo le sue. Tanti. Bellissime. Adesso con delicatezza perché l'amore è delicata in queste cose. Adesso mi sposto. Adesso. L'occhio aperto o chiuso. Ecco. Non me lo hai detto. E volevo coglierti di sorpresa. Non sono abituata e quindi lo sento che c'è un corpo estraneo. Sì. Immagino. Lucrezza resta un attimo tagliando perché sono di una misura standard. Com'è? È la prima volta che metti delle ciglia a finte qualcuno. È la seconda? Ecco. Io ho messo quelle magnetiche una volta una signora. Quindi non rompe. Qui arriva la parte perfezionista. Mamma mia. Eh sì. Bisogna essere perfetti. Wow. Ma sono fichissime. Le voglio così per sempre io. Bene. 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 Adesso mentre si asciuga la colla andiamo a fare il contouring del viso. Che è l'ultima parte no? La penultima. Vado a prendere un fard che è sempre dell'astra. Io lo utilizzo come fard perché rende molto più delicato il viso a vedersi. È un blush expert matte effect. Ma utilizzato come fard per accentuare le forme del viso. Soprattutto con un tema così natalizia e top. Adesso lo sposto leggerissimamente qua. Quando ti sposerai verrai da me. Ok. Volevo anche fare leggerissimamente qui. Alla fronte. Quindi anche se è un blush. Tu fai lo stesso. Anche se è un blush io lo utilizzo. Anche qui non vedi mica. L'utilizzo come contouring. Che come puoi vedere dopo ha un effetto che è molto naturale. Lo vedi anche da lì. Si. Anche da lo specchio. Vedi? Bello. È molto bello. Molto delicato. Ma questa poi con la visione è molto elegante. È il mio naso come bisogna fare il contouring del mio naso che ha la coppa. Vuoi che facciamo il contouring del mio naso? Si. Certo. Si. Allora vado a prendere il pennello però adatto. Volevi vedere come lo fai perché voglio imparare. Certo. Prendiamo il pennellino questo qui che è proprio fino. Il mio ponte. Della Wet n Wild che è un contouring stick duo. E l'illuminante. Ah ok. Vado a prelevarne proprio un pizzico. Vedete che stick? Che può essere solo scegliere. Sembra un rossetto. Mamma mia. E della forma dico. Si. Vado a prenderne proprio. E che è talmente morbido il pennello. che non si sporca. Adesso che forma fai? Adesso vedi. Vado a riprendere solo la montagnetta qua. Non offenderti ti prego. E non lo so che ce l'ho. Vedi. Sono veramente passaggi che sono velocissimi. Veloci. Che puoi fare tutti i giorni Marta. Oddio. Non tutta la base così come te l'ho fatta io. Perché è per un evento ovviamente. Un evento di Youtube. E adesso vado qui. Che è un effetto che lo rialza bene. Sulla punta qua sotto. Ecco la cipria matte. Ecco la fissante. Vado a fissare. Adesso vado a mettere l'illuminante. Un pizzu pizzu pizzu. Sorridi. Tutti i primatini. Tutto glitter. E' un look natalizio gotico. Possiamo esagerare? Esatto. Calcolate che andrò a casa così. Esatto. E deve uscire così stasera. Con questo pennello angolato. che può essere utilizzato sia come pennello per le sopracciglia. Come vedete c'è lo scovolino. No? Ok. Ah giusto. Ok. Bello questo. E c'è la punta angolare. E c'è la punta angolare. che può essere utilizzata come dicevo per le sopracciglia. Perché ha il pettine. Ma anche per le labbra. Come un pennello da precisione. Lo vado a prelevare però con un altro pennellino. Per applicarlo più sulle labbra. Apre un pochino. Perfetto. Da utilizzare una mattita in questo caso. Perché deve essere un po' più libero. Un po' più sumato. A me piacciono un sacco queste cose. Adesso arriva la magia. La magia del Natale. I glitter. Pensavi creatura che fosse finita qui con il rossetto e invece no. Certo. Guardate qua. Siamo a Natalizio. Giustamente. Rosso e verde. Bellissimi. Vado ad applicarli lungo il viso della Marta. Vediamo un po'. Magari facciamo un misto. No. Cioè il tuo è il tuo il make up. Certo. Mi sa che si addormentano. Sì. Sarebbe giusto così però dovete vedere fino alla fine del video. Allora vado a prenderli però con una pinzetta. Sono anche di diverse misure. L'ho notato adesso. Del più piccolo. Per il più grande. Vado ad applicarli un po' a caso intanto. Nello stile che piace a noi random. Esatto. Non so se vuoi creare una sorta di lenticini glitterate. Esatto. Ah è quella l'idea. Potrei anche farlo. Però devono essere proprio un po' messi a caso perché dopo metto anche il rosso. Eh potremmo lanciare la moda di quest'anno del Natale le lenticini glitter. Madonna. Se vedete che è cambiata la luce è perché fuori fa buio. Esatto. E abbiamo acceso la luce della camera. E se vedete che non guardo più, non guardo mai qua, guardo verso l'infinito e oltre c'è lo specchio. Abbiamo la luce della camera, ring light. E luce della finestra lì che sta pian piano sfumando in oscurità. Non lo so. Va bene. Tanto a quest'ora saranno già tutti a dormire. Sì. Li possiamo aumentare dai. Eh sì è quello. Amore. Ok. Cosa potremmo altro aggiungere? Cosa potremmo altro aggiungere? Beh direi che cosa manca. Cosa manca? Allora abbiamo il glit dei gatti. Cosa manca? Cosa manca? Cosa manca? Abbiamo anche il contouring al naso. Mamma mia. Cosa manca? Cosa manca? Cosa manca? Cosa manca? Basta. Basta. Ah sì! Vado a prendere adesso l'ultima parte che è questo lip gloss illuminato con i brillantini. giustamente mancava solo quello che è della Essence E-Lip Paint Metal Shock della colorazione Mercury. e l'ho fatto proprio ad applicare sulle labbra qui il look è fatto andrà a Natale così se va devi rimanere a Natale è finito allora mettete tanti like mi raccomando ricordatevi di commentare se ancora qualcuno è rimasto sveglio se magari è la terza o la quarta volta che stai vedendo il video commenta scrivendo se ti è piaciuto il make up ti ricordo che ti lascio il link di Lucrezia di Instagram e di Facebook nell'info box e che altro? mettete tanti like vi vogliamo tanto bene e vi auguriamo anche una buona notte e una buona sera ma anche buona notte perché uscirà questo un po' prima di Natale e buona notte di Natale quindi buone feste direi sì esatto ciao creatora buona notte buon relax ciao creatora ciao 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 ciao